Uedì, anticipazioni, Corvino non si presenta studio, la vigna resta solo con Campoli. Non si mette bene per la vigna Mauro, l'atronista di Uedì, infatti, è rimasta con un solo corteggiatore a poche puntate dalla scelta. La segnalazione che è arrivata su Alessio Corvino nella precedente registrazione. Infatti, è stata la goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo, il ragazzo non si è presentato in studio lo scorso 19 marzo. Tanto che il suo antagonista Campoli si è fatto delle domande sul futuro di questo trono. Sul fronte Over, Gemma e Silvio sono vicini alla rottura mentre Riccardo ha accettato di conoscere una nuova dama del parterre. Archiviata la scelta di Federico Auedì, ora l'attenzione degli spettatori è tutta per la vigna e per come si concluderà il suo lunghissimo percorso nel trono classico. Sabato 18 e domenica 19 marzo, infatti, sono stare registrate due nuove puntate del Dating Showman. Una di esse è stata quella giusta per mettere fine all'avventura della bella Mauro sulla poltrona rossa. Le anticipazioni che stanno circolando in rete negli ultimi giorni, infatti, fanno sapere che Alessio Corvino è finito al centro della bufera per una segnalazione, il giovane ha trascorso una serata in compagnia dell'ex fidanzata e questo non è andato giù alla gelosa tronista che sta frequentando da mesi davanti alle telecamere. I due hanno discusso a lungo e poi il corteggiatore ha lasciato lo studio in preda all'Ira, il blogger Pugnaloni fa sapere che Alessio il biondo non ha partecipato alle riprese di ieri nonostante la vigna l'abbia raggiunto in camerino il giorno prima. Tra le anticipazioni che sono emerse sulla registrazione di Uedì del 19 marzo, dunque, spicca quella sull'assenza di Alessio Corvino in studio. Maria De Filippi ha informato la vigna del fatto che il suo corteggiatore ha deciso di non presentarsi alle riprese dopo l'acceso scontro che hanno avuto dietro le quinte poche ore prima. La tronista ha commentato il tutto dicendo che si aspettava una mossa del genere e ha chiarito che dovrà essere lui a fare qualcosa perché lei non ha intenzione di rincorrerlo per l'ennesima volta. Alessio Campoli si è interrogato su quello che potrebbe accadere se il suo antagonista non tornasse e la romana gli ha risposto con un ermetico vediamo. La protagonista del trono classico, dunque, potrebbe essere costretta a scegliere per mancanza di corteggiatori. Un altro argomento che è stato affrontato nel corso dell'ultima registrazione di Uedì è il rapporto tra Gemma e Silvio. Dopo un inizio passionale, i due si sono allontanati a causa di varie divergenze caratteriali e l'altro giorno sono stati sul punto di interrompere la conoscenza. Galgani, però, ha chiesto ed ottenuto un'altra settimana di tempo per capire cos'è giusto fare. Dopodiché deciderà se continuare a uscire col cavaliere oppure se mettere fine alla loro breve ma focosa relazione. Tutte le dame del parterre, infine, hanno dato vita ad una nuova sfilata a tema ma gli spoiler non chiariscono chi ha ricevuto i voti più alti e quindi chi è stata la vincitrice. Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha anche anticipato le date delle prossime riprese del dating show, Maria De Filippi tornerà a condurre i nuovi appuntamenti sabato 25 e domenica 26 marzo. Pare che uno di questi giorni potrebbe essere quello giusto per assistere alla scelta di Lavinia Mauro, prima di questo. Però, la tronista dovrà confrontarsi con Alessio Cordino per capire se intende portare a termine il loro percorso oppure se la sua decisione di lasciare il programma è definitiva. Mafia, parasiții, dragonu, maxi, gespe, chimie, rimaru, spike, buia, si, schwa, bow Grasul, nimeni altu, delvede, sau carbo, trei să vă mănânci vers cu vers card intens Trei să crezi, crezi ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor Te zici că mă bat cu boss-ul, la cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumos-ul Metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie, când adun cuvinte din domn Mă pun, le pierd la o mie de grade Celsius, te rămână spus și să se știe Nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie unul